Per la gastronomia premiamo lo chef Marco Martini. Marco Martini è uno degli chef stellati più giovani d'Italia, di origine romana, trentani, di cui 15 anni di passione per la cucina, dedizione e sacrificio. Nel 2013 si aggiudica il titolo di chef emergente d'Italia, 24 anni viene premiato con la prima stella Michelin come chef executive a Roma in colonna. Successivamente, nel 2015, arriva la seconda stella Michelin, un traguardo frutto di determinazione, entusiasmo ed esperienza maturata con importanti nomi del panorama nazionale ed internazionale, quale il maestro Andonella Colonna, per passare in seguito nella brigata di Heinz Beck e nella cucina di Tom Eichens a Londra, fino alla recente esperienza di stazione di posta. Per Marco Martini la cucina è l'artigianalità del gusto che plasmata con passione, creatività e studio si trasforma in eccellenza. di dire il premio Vanda Perna, premio del sindaco, il presidente del consiglio, Vincenzo Stendardo. Mi diranno un premio per un figlio? Penso che è la cosa più bella che ci possa essere, ho detto tutto. Assolutamente diceva che ritira la mamma perché il figlio alle sette di sera sta cucinando questo, tutto non è possibile.